buongiorno bambini buongiorno famiglie siccome siamo tutti fermi a casa perché insomma il momento che stiamo vivendo ci ferma ho pensato di iniziare così un cammino con voi di riflessione per non perdere l'occasione per capire qualcosa in più imparare qualcosa di nuovo oggi ho pensato di partire in questo brico catechismo cioè il catechismo con le cose che abbiamo in casa a partire da uno dei tanti cartelli che abbiamo visto in televisione o le immagini che si vedono sul computer tutto andrà bene sopra questa scritta c'è un arcobaleno spesso e questo arcobaleno è un bellissimo segno che si trova già nella bibbia e che è segno di quello che c'è tra dio e gli uomini e cerchiamo un pochino di capirlo sì perché quando è che c'è l'arcobaleno beh l'arcobaleno c'è quando sulla terra e qui facciamo un pochino la montagna e dopo una pioggia viene a spuntare il sole e c'è ancora nell'aria un po di goccioline diciamo così e quelle goccioline di acqua che sono le goccioline della pioggia che c'era prima poco a poco creano grazie alla luce del sole grazie al suo calore creano questo bellissimo segno che è l'arcobaleno questo arcobaleno quindi è proprio visto come un segno di legame tra il cielo e la terra e questo ci fa pensare tanto anche a quello che stiamo vivendo in questi giorni noi abbiamo bisogno proprio di riscoprire questo arcobaleno che cerchiamo alla speranza che ci aiuta a capire ed è scritto tanto è nella bibbia che tra il cielo e la terra c'è questo continuo arco questo segno di speranza insieme di tanti colori e quindi mai come in questi momenti noi abbiamo bisogno di riscoprire proprio questo legame questo tutto andrà bene che trova tanta fiducia in dio che ci vuole bene e che in gesù ci ha detto tante cose belle che ci aiutano anche a vivere bene e allora visto che dobbiamo stare in casa e magari non possiamo uscire non possiamo giocare non possiamo andare a scuola eccetera magari una dell'attività è proprio quello prepariamo magari un piccolo cartellino e dove facciamo un piccolo arcobaleno e poi glielo mettiamo magari al fratellino magari il papà o alla mamma e a qualche persona che è vicino a noi e con il quale condividiamo la casa gli mettiamo questo bigliettino tutto andrà bene magari glielo lasciamo in cucina magari glielo lasciamo vicino al tavolo perché questo aiuterà tantissimo a essere dei piccoli messaggeri del bene che adesso c'è bisogno poi ci troveremo un giorno tutti insieme per fare festa noi abbiamo bisogno proprio questo guardando a casa mia ho trovato questo porta chiavi che mi ha fatto molto pensare vedete è un piccolo mondo e allora mi sono chiesto come noi stiamo guardando al cielo è vero ma mi sto anche dicendo chissà come dio vede in questo momento il mondo chissà come condivide anche quella preoccupazione di questi giorni ma noi vogliamo ritrovare noi con la speranza che lui ci ha dato sapendo che lui è sempre con noi e allora lo facciamo proprio con questo piccolo segno allora al posto di farne di tutti i colori in casa diciamo così prepariamo questi piccoli arcobaleni che poi diamo alle persone che sono con noi e che devono condividere con noi questi momenti di difficoltà vediamo così la speranza e il bello dello stare insieme dio è con noi e anche in questo momento di difficoltà sappiamo che l'arcobaleno diventa il segno di un colore alla nostra vita che è il colore della speranza della quale tutti abbiamo bisogno ciao a tutti